Umberto Gerosa, importante vittoria qui a Castellana Grotta, campo non facile però tre punti importanti per Cantù, per com'è andata la partita? Sicuramente tre punti importantissime, siamo tutte squadre in rodaggio, loro sono un'ottima squadra, partita male però hanno degli ottimi giocatori anche con esperienza di alto livello per noi serviva sbloccarci un pochino in trasferta che non è mai semplice, con Castellana facciamo sempre fatica siamo partiti bene, poi comunque siamo andati in difficoltà, siamo stati bravi a reagire il terzo e il quarto, tre punti importantissimi per noi veramente, soprattutto per il morale Che squadra è Cantù che campionato sarà per voi? La squadra giovane, tra me, ha ringiovanito parecchio, quindi tanti giocatori nuovi, però stiamo lavorando bene, abbiamo avuto qualche problema all'inizio poi dopo è arrivato Jordan anche dall'Australia da poco, il gruppo comunque è unito, tanti giovani che hanno voglia di fare bene per adesso stiamo andando bene, giochiamo una partita alla volta, poi vedremo un po' anche con tutte le avversarie perché sarà un campionato sicuramente durissimo e molto lungo quindi ogni punto, ogni domenica è importantissimo per arrivare più in alto possibile Nuova formula due gironi, come la vedi? Ma è una formula un po' strana perché alla fine è un mini campionato però dopo ti trovi squadre che magari non hai mai visto tutto l'anno è una cosa nuova un po' per tutti, adesso cerchiamo di vedere le nostre nuove avversarie, poi dopo penseremo ai nostri avversari più avanti Grazie